Allora, visto che il Natale ci dà il suo senso di mistero e anche di gioia, io ho voluto dedicare una poesia alla poesia. Perché le poesie? Perché ci sono dei momenti più favorevoli, può essere di sera, può essere di mattina, secondo la persona e secondo l'ispirazione del momento. Io proprio ieri sera, pensando che dovevo dire quelle poesie e non le ho scritte per un po' di tempo, ho espresso, mi è venuto di pensare a questo, quindi mi sono alzata dal letto e ho scritto appuntato questa piccola poesia, piccolissima, quindi spero che sia gradevole. Ho scritto, le poesie sono di un lieto ballare, quando l'animo è gentile e malinconico. A nulla servono se non a divagarne gli spazi della mente e ad inventare nuovi fugaci pensieri. Poi visto che faccio l'esposizione sopra dei quadri, che trovate proprio di fronte alla scala, gli inquadri uno sull'altro, vi darò sotto forma poetica la spiegazione degli inquadri. Quindi così magari quando voi andate sopra potrete provare a riconoscerli.